Grazie a tutti Like, comment, subscribe and share Ok, condividiamo tutti Dai, è Tokyo Ghoul Non mi sa notare la reazione che fanno la gente che mi ha morto Guarda, guarda la faccia della tenora Ah, che punto che sto, dai Ti vergognava un giudo No, che fai C'è qualcosa che mi sto perdendo? No, ti stai cagando addosso Ma le guardie dove sono? Le guardie Ti sicuro Ah, ma no, state calmi Era anche io Ok, ah, la persona di cojones Canzuncina è abbastanza kawaii Oh nooo Ah 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 Ma che cazzo Perché c'è Gesù che balla? Perché? C'è Gesù I can't be the day Che cosa va per tu? Ah 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 No, non, 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 no No Gesù Ok, che cosa sto guardando? E Ianco muore Anche se l'avrei voluto rivedere in sub Proprio potenziato Ciao Ianco Ciao Ianco Ancora questi due che ballano Ancora questi due che ballano Adesso sono io quando si fa la doccia per la musica GAY Sembana, sembana Non mi sono andata Non mi sono andata Non mi sono andata Non mi sono andata Ancora Da guardare sui besti andati Ancora, non mi sono andata Beh, beh, beh Vai Hoppai Ehi Hoppai Vai Chiedimi di rifarlo per altri video Perché lo voglio fare assolutamente Mi stava piacendo Iscrivetevi al suo canale Lasciate un like E ciao da Giozuma Un salutone Ciao Fammi fare più stress Sto i reaction Prego Che sono morto da ridere Ciao a tutti ragazzi Grazie molto agli anime Che hai fatto vedere questo video E ho fatto tante cose nuove E non andrò mai in Giappone No No